Noi veniamo da un periodo dove abbiamo giocato una volta ogni tre giorni, sicuramente abbiamo avuto un grande dispendio di energie fisiche e mentali, quindi sabato è l'ultimo sforzo di questo periodo con partite ravvicinate, perché poi dopo abbiamo la possibilità di preparare una partita alla settimana e questo è molto importante, quindi sappiamo tutti dell'importanza della partita in questo momento del campionato. Quando si manca un giocatore di quel livello lì è normale che la squadra si compatta, tutti danno qualcosa in più e quindi troveremo sicuramente delle difficoltà. Cassano è un giocatore straordinario, un giocatore che ha grandi tecniche, un giocatore che ti può risolvere la partita in qualunque momento e comunque per noi sarà comunque una partita molto difficile domani. Ness e Tiago stanno facendo molto bene anche da registri, Andrea ci garantisce geometrie, ci garantisce le giocate sul corto, ci garantisce le giocate sul lungo, ci garantisce tecnica a metà campo, quindi è un giocatore fondamentale per questo Mila. Sono molto contento per Ambrosini che sta facendo molto bene, purtroppo non ho ancora Pirlo a disposizione, invece contavo di averlo. Antonini si riallena oggi con la squadra per il primo allenamento e difficilmente sarà a disposizione, però anche questo lo ha valutore oggi. Gli altri stanno tutti bene, poi credo che in questo momento anche se siamo un po' stanchi fisicamente abbiamo un obiettivo comportante in testa, quello di proseguire in questa striscia positiva e quindi poi abbiamo anche una settimana per poter recuperare e quindi dobbiamo fare bene l'ultimo sforzo. Siamo pronti a fare un'altra buona partita. Morigno per certe cose è geniale, ha un suo modo di comportarsi e non sono io certo a giudicare lui per quello che fa. Credo che Ibrahimovic ha delle qualità straordinarie, sia fisiche che tecniche. Un giocatore di alto 1,95, avere una rapidità di piedi, una tecnica come a lui, credo che sia unica al mondo. Van Basten è il giocatore che si assomiglia di più a Ibrahimovic. Credo che Pirlo debba rientrare più presto perché è un giocatore fondamentale per il Milan.